Così sublimi parole. Il nuovo libro degli spiriti, a cura di VB, dal cerchio medianico K, attraverso Marco, padre Bernardo. Altissimo Signore, proprio quando Tu mi sei più vicino ed attraverso il mio karma mi consigli cosa fare, proprio allora io non Ti ascolto, non so leggere i così chiari segni, le Tue così sublimi parole. Fa che io non esca, Signore, quando nuvolo il cielo. La mia barca non navighi quando avversi ispirano i venti sul mare. Fa che ben ferme siano le mie finestre, a ciò che l'acqua non mi bagni. Fa che solida sia la mia porta, sicché i venti non portino via ogni cosa. Che io resti nella mia casa, che io resti in Te. Amen.